...cavalli di Urune, si esatto, sono i cavalli di Urune, vediamo un po', un 2 su 2 a cavalli molto veloci con Fabrizio Nuda e Marco Congiu, cavalli, notate l'eleganza del campi che ci sono qui, numero portato a termine, numero abbastanza vero che ha portato a termine con il cinema di campi, quindi...